Con oggi voi cessate di essere studenti di una classe per diventare membre di una classe, una classe estremamente selezionata. Affrontate il futuro fiduciosi a testa alta perché ora siete medici. Dottor Michael Haynes. Dottor Doris Ackermann. Dottor Hunter Petsch Adams. Rai Petsch! Felice di vedere che alla fine ha deciso di conformarsi. Chiudi quanto sembri, signore. Chiudi quanto sembri, signore. Chiudi quanto sembri, signore. Scibiosti, signore. Grazie a tutti.